siamo a fine ottobre la temperatura per stare all'aperto è ottimale e non ho niente da fare posso iniziare a potare? no! posso potare il cordone speronato lasciando speroni lunghi di 30-40 centimetri che andrò poi ad accorciare quest'inverno? no! nel guiù posso fare il taglio del passato ovvero togliere almeno il tralcio che ha prodotto? no! almeno nella pergola posso iniziare a tirarvi al vecchio prometto che completerò la potatura a gennaio no! chiedo per un amico nel silvone e casarsa si può iniziare a togliere almeno i tralci che hanno prodotto? no! lo so benissimo che vorreste potare in canottiera la potatura secca non a caso definita invernale deve essere eseguita in inverno con piante completamente a riposo dopo che abbiano terminato i processi di traslocazione delle sostanze nutritive e di lignificazione vi ricordo che una potatura anticipata quando le temperature sono ancora elevate espone la vite al rischio di essere infettata dai funghi responsabili del mal dell'esca inoltre tanto più anticipiamo la potatura tanto più sarà anticipato il germogliamento con maggiori rischi di incorrere in gelate tardive detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti